Domenica 8 ottobre sarà la 67esima giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. In Veneto in particolare le morti bianche sono un fenomeno ancora troppo frequente. Un problema per il quale l'Associazione Nazionale tra Mutilati ed Invalidi del Lavoro cerca di dare una soluzione attraverso una cultura della sicurezza, anche attraverso eventi appunto come quello di domenica. Lucia Capelletti. 55 morti bianche in Veneto nell'arco di 7 mesi, una ogni 4 giorni, 22 delle quali dovute al ribaltamento di trattori, un triste primato nazionale. Ma in calo rispetto allo stesso periodo del 2016, quando gli incidenti mortali erano stati addirittura 65. Sono i dati diffusi dall'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Gli infortuni sul lavoro rimangono stabili, a quota 44.000, crescono e di molto le malattie professionali denunciate, passate in Veneto da 1900 a 2200, il 14% in più, con punte del 24% in provincia di Venezia. Questo è legato alla nuova tipologia di malattie professionali muscoloschellentriche, che riguarda un mondo di lavoro che era particolarmente assente, nel senso che non era riconosciuto, ma soprattutto è il problema amianto, Fincantieri, Breda, Montedison, CVM, Porto Marghera ha dato un tributo enorme in questo senso. Per questo fondamentale rimane la prevenzione, a partire dalle scuole, dove anche ANMIL Veneto è impegnata da tempo. Con la SISCOVE e l'INAI stiamo facendo dei testimoni presso le scuole della provincia, in modo particolare la scuola Mattei Scarpa di San Donato di Piave, e con una soddisfazione perché sono stati premiati a Roma assieme a altre scuole nazionali.